Dopo questo lungo, lunghissimo periodo qua a nord di Viticcio, entra vento da maestrale, entra onda da maestrale e quindi ce ne andiamo a sud. Mettiamo in moto e partiamo. Messo in moto, abbiamo tirato su il motorino elettrico, abbiamo messo sotto coperta la batteria, vado a salpare l'ancora. Per salpare l'ancora, quando si è soli, se c'è Franco con me in questo momento, bisogna un po' lavorare un po' a pupa, un po' a pupa, perché si tira su con la catena, si corre a pupa, soprattutto quando c'è vento e onda, no? Si dà una bella sgasata in avanti e si va a recuperare, se no si sforza troppo sul verricerro dell'ancora. Ok, liberi, scappare velocemente dalla terra, direzione ovest per andare a sud. Ora devo tornare a prua, sistemare l'ancora, comunque a fermarla. Quindi sfrutto il mio pilota automatico, Franco. Allento un pochino. Ok. Punta. Punta la punta. Punto la punta. Punta la punta. Punta la punta. Punta la punta. Un momento magico. Ah, l'altro giorno, andando a mangiare da Giacomino la sera col tender, mi fermano due francesi. Oh, Mariana! Non lo dico Dio. Momento magico. Cioè, vi rendete conto? Dalla Francia conoscono Momento Magico, è meravigliosa questa cosa. Merci a Tula France e alla couple, couple se di, beh, je ne sais pas, alle due garçons, che il m'ha riconnue e il m'ha dit Momento Magico. Ma è meglio che mi concentri sulla bolina, va, con quest'onda. C'è onda, ma c'è pochissimo vento, anche se da dentro la baia sembrava che ci fosse, perché ci sono un bel po' di occhette. Poi, una buona tecnica per capire se fuori dalla baia c'è vento, no? E guardare le altre barche, se hanno mani di terzaroli oppure no. Ne ho visto una senza e una con, ne ho detto, ma per non saper né leggere né scrivere è meglio sempre essere conservativi. Quindi ho preso due mani di terzaroli. Dopo un bel po', ero ferma sull'onda, ne ho tolta una. E dopo un bel po', praticamente sono fuori dalla baia. Le ho tolte tutte e stiamo andando finalmente a tutte vele. È sempre meglio essere prudenti. Come si dice qui in Toscana, meglio aver paura che toccanne. Ma ogni tanto non ti arriva qualche zaffata di sigaretta? No. Vabbè sì, deve essere quella barca laggiù che stanno fumando. C'ho un po' di mal di testa, ovviamente. Mi vado a rifugiare sotto. Mi distraio un attimo. Perché tutto il tempo lì sotto al sole. Adesso fra un po' mi faccio un tuffo. Beviamo, beviamo, beviamo che ti beviamo. Vero Franco? Beviamo. Beviamo. Tant'acqua. E ci riprendiamo. Momento magico. Ah, io pesco un metro e settanta e posso andare abbastanza a ridosso della riva. In Italia non si potrebbe andare vicino e vicino, ma ci sono in alcuni posti, diciamo, che è tollerato. Allora, mi sono presa questo ecoscandaglio manuale e provo, eh. Quattro metri e uno. Adesso voglio andare un po' più vicino alla riva per vedere quanto c'è e fino a che punto potrei andare avanti. Per esempio, in questa baia, no? Queste sono le ultime barche che sono a motore, perché le barche a motore pescano poco poco. E poi non c'è più nessuno là davanti. Ora, qui saremo troppo vicini, no? A dare ancora qua. Però, per esempio, tipo l'avezzi, questi posti un po' particolari dove ci sono le rocce sotto, non sai mai, ti devi intrufolare. Uno ha sempre paura di sbattere, no? Col bulbo, eccetera. Allora, vediamo un po' qua quanto pesca. Quattro metri e mezzo. Però, a quanto siamo dalla riva? Perché anche tutte cose con laser, una pigata pazzesca. Con questo è come un metro. punto la spiaggia e siamo a 137 metri. Qui sarebbe già vietato stare, però, insomma, ecco, no? E nel senso che qui si pesca così, ma poi ognuno, no? Cioè, magari in un'altra baia dove si pesca di meno, magari si è tanto lontani, cioè di più volevo dire, si è tanto lontani, però... no, si pesca di meno. Si è tanto lontani, però c'è poco pescaggio, ci sono... Ah, con questo, zah, 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 una va, tranquillo, col sap. E poi può andare un po' più vicino. Andiamo a vedere fin dove ci si potrebbe spingere. Qui siamo a riva. Provo qua. Un metro e quattro, per poco. Andiamo poco poco più in là, vediamo qual è il mio limite, eh. Potrai arrivare a 25 metri dal bagnasciuga con la mia barca. Un altro trucco, no? Per capire se sotto, per esempio, c'è sabbia, c'è alghe, così. Guardate Google Map, che non c'entra niente come applicazione, diciamo, nautica, però è utilissima. Per esempio, guardando da Google Map, qui ho capito che è tutta sabbia, che però da quel lato lì ci sono delle rocce più affioranti, nel senso che si pesca meno. E quindi bisogna stare attenti a quella. Ho portato a terra Franco col tender. E lui adesso prenderà la macchina e andrà a Golfo Stella, non so se a Quarilli, Felciano, vedi a Felciano, Falciano, non mi ricordo come si chiama. E me ne vado anch'io a Golfo Stella. Ce li incontriamo lì e io lo andrò a recuperare sempre col tender. Si parte. Appena salvata, ho già aperto il Genoa e adesso momento magico. Ah, che meraviglia, già subito così, ancora in mezzo alle barche ormeggiate. Bellissimo, venticella al traverso, finché dura così avvela tranquillamente. Micio. Cosa guardi? Gatto. Niente, lui ogni tanto vede delle cose che io non vedo e... è così. Comunque sta barca è splendida perché con un vento leggerino, col solo Genoa, di bolina, faccio tre nodi e tre ragazzi. È una barca meravigliosa. Abbiamo superato da poco la metà di agosto, ma l'aria è già settembrina. Non c'è più quella foschia da afa, il cielo è più terso, l'aria è leggermente più frizzante. Comincia un po' di malinconia. Forse anche un po' di voglia di terra, di funghi, di camini. O anche di viversi il mare con meno gente. Ecco, c'è un po' questo dilemma. Ho dato ancora nella rada di Falciano. Falciano adesso poi controllerò meglio come si chiama, eh. È molto carino. Adesso vado a prendere Franco col tender. E si pranzia perché io ho una fame. Ecco, sono sul tender, vado a Remi perché tanto sono troppo vicina alla riva. Vedete? E vado a prendere Franco. Eccolo qua. È arrivato. Spesa fatta. Vai. Aspetta, ce lo fai. I maneskin sono andati via. No, sono dietro... Ah, sì, sì, vedo Alfio. Vedo Alfio che pesca. Carina questa spiaggetta. Molto carina. Poi lì c'è questo ricciolo. Sì. Dove... Tipo spiaggetta per bambini, non so. Sì. Dove deve essere ancora più tranquillo che qui. Insomma, vabbè, oggi è tranquillissimo. Invece qua sopra... Invece questa notte mette a scirocco, eh. Quindi sono messo in un posto che... Anche girandoci... No, dicevo che invece qua sopra c'è il parcheggio. Ah. E... Cos'è? Felciano? 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 Come si chiama? Sì, una roba del genere. Falciano, una roba del genere. Sono andato anche al Barretto Lastra Piombo per vedere la spiaggia sotto. Ah. Carino. È bello Acquariglia anche. Sì, Acquariglia è carino. Anche Norsi. Sì. Come ci siamo dati il primo bacio. Il primo bacio. C'è il Barretto dove avevamo mangiato. Sì, sì, sì. Ciao. Ciao. Sono a Montecristo. Mi ricorda Ugo nel tuo libro quando lo mandavi a fumare sul tender. È vero. È vero. Mi prendi anche l'ecoscandaglio? Sì. Mi prendi anche l'ecoscandaglio? Sì. Fammi, 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 fammi. Fammi, fammi, fammi. Mangiamo, 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 mangiamo. Ci siamo spostati davanti alla spiaggia di Acquarilli. Prima eravamo più in là a Felciaio, Felciano, niente. L'ho letto 3.000 volte ma non riesco a ricordarmelo. C'è sto palo, sto albero che continua a farmi ombra. Che è poco più in là, insomma, diciamo mezzo miglio. E tra poco faccio una diretta. È la prima volta che faccio una diretta in rada. Farò dei tuffi, eccetera, insomma così. Chiacchiererò con voi e ve ne farò vedere un pezzettino anche qui per chi se la fosse persa. Anche se potete vederla integrale nel video che vi lascio qui. Sì, manca meno di un minuto. Quindi, trasmetti dal vivo. Diretta dalla rada di Acquarilli. Speriamo di aver scritto giusto acqua. Boh, avanti. Bisogna metterlo orizzontale. Sorridi per... Ha detto sorridi per la miniatura, poi la cambieremo. Trasmetti dal vivo. Allora, ciao a tutti. Aspettiamo qualche secondo perché la gente si colleghi. Comunque, vi faccio vedere dove sono. Sono in rada qua ad Acquarilli, che è nel golfo di... Golfo Stella, accanto al golfo di Lacona. No, non si riconnette. Aspetta, forse... No. Niente, niente. Non si riconnette. Va bene, se mi sentite, ciao a tutti da Acquarilli. Ciao a me. No, mi sento. Non sicuro. Niente, è andata via. Non c'è più. Ragazzi, no. Non sono finita alle Maldive. Sono soltanto a poche miglia dall'Elva. Dove lo scoprirete soltanto nelle prossime puntate. Noi ci vediamo invece la settimana prossima. Seguitemi, mettete un like e buona onda!